Valuteremo la richiesta e per ora la posizione ufficiale del governo dell'Equador. Il ministro degli esseri di Quito, dal Vietnam, dove si trova in visita di Stato, ufficializza la decisione, ma che Edward Snowden, come già il numero uno di Wikileaks Julian Assange, nello Stato latinoamericano troverà rifugio, sembra ormai certo. Con una mossa a sorpresa, la talpa del DataGate, che ha rivelato al mondo la colossale rete di spionaggio a tappeto dell'intelligence americana, ha lasciato Hong Kong. Niente estradizione verso gli Stati Uniti, mancano i presupposti, è la risposta che Washington incassa come uno schiaffo diplomatico. E così la lunga fuga riprende prima tappa Mosca, non ha il visto d'ingresso russo e l'americano in attesa di partire per l'Equador resta bloccato nell'area di transito dell'aeroporto. Qui altro caso diplomatico per il Dipartimento di Stato. È impossibile che le autorità russe non sapessero e le conseguenze nelle relazioni col cremino potrebbero essere pesanti. Cina, Hong Kong, Russia, Ecuador, la scia di problemi che lascia Snowden è il sintomo della grave difficoltà americana nella gestione del caso. Al momento l'unica misura possibile è la revoca del passaporto. Gli Stati Uniti chiedono a tutti di impedire ogni spostamento del ricercato, eccetto che il suo rientro in patria. Ma in America la polemica sul caso va avanti e ci si chiede perché i servizi segreti non abbiano intercettato la talpa della NSA, mentre prima di volare a Hong Kong ha trascorso alcune settimane alle Huawei, territorio statunitense. Di certo Snowden, nei suoi spostamenti, è accompagnato da una delle più strette collaboratrici di Wikileaks, l'esperta in affari legali Sarah Harrison, la prova dell'aiuto ricevuto dall'organizzazione di Assange. Il governo americano spia ciascuno di noi, ma invece è Edward Snowden ad essere accusato di spionaggio per averci avvertito. Ha fatto sapere lo stesso Assange che nei giorni scorsi aveva offerto il pieno sostegno all'uomo oggi più ricercato del pianeta.